Dopo mesi di tira e molla, finalmente si ha qualche notizia certa in merito ai 500.000 euro che il Ministero degli Interni avrebbe destinato alla città come ricompensa per l'attività di accoglienza dei numerosi migranti. Fondi che per mancanza di progetti concreti sembravano ormai persi. Inizialmente si era parlato di utilizzare una parte dei soldi per la messa in sicurezza del vecchio stadio di Pozzallo, di cui nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato il progetto di manutenzione, mentre la parte restante doveva essere destinata alla sistemazione di Viale Australia, una bretella di collegamento per le forze dell'ordine e per il pullman del trasporto dei migranti. Ora qualche buona notizia arriva dall'assessore all'urbanistica Francesca Ammatuna, in quanto ha reso pubblico che è stata voltata una delibera nella quale viene destinata l'intera somma in questione per la ristrutturazione della strada di Viale Australia. Non mancano certo le polemiche, in quanto sono veramente pochi i 500 mila euro e sembra quasi che si voglia risolvere il tutto e ridimenticarsi di Pozzallo. La denuncia dei cittadini che accusano lo Stato di aver volutamente abbandonato la città e che continuerà ad essere abbandonata.